Si chiama OMDL, è l'osservatorio fatto sulle aziende della provincia di Teron per capire quali sono le richieste di lavoro di cui le aziende hanno principalmente bisogno. Uno studio ideato per analizzare il mercato in modo da individuare le competenze più richieste per orientare la formazione professionale. Uno studio fatto tramite gli operatori dei centri per l'impiego su 200 aziende che dal 2008 sono obbligate a dare le informazioni online con il sistema facile e che su un quadro di circa 4.000 aziende, naturalmente tutti i settori sono stati oggetto di studio, ci sono molte professionalità richieste dalle aziende che però non riescono a trovare nel nostro territorio e quindi è giusto che noi provincia ci attiviamo per formarli. Ingegneri, periti agroalimentari, cuochi, disegnatori, quindi alte e basse professionalità comunque molto specializzate in alcuni settori. Le qualifiche sono veramente tante e speriamo di poter insomma superire al meglio a tutte le esigenze. Continuare il lavoro di indagine tramite sempre gli operatori dei centri per l'impiego che escono, quindi non aspettano che l'azienda venga nel centro, escono e vanno proprio all'interno, nel cuore dell'azienda per vedere quali sono le problematiche e quali sono le esigenze. E quindi diminuire le distanze con le attività proprio della provincia, far sì che si attivino questi corsi di formazione proprio per qualificare i soggetti per quel tipo di attività richiesta. Naturalmente è un lavoro che è stato già fatto ma che verrà sicuramente molto più, che verrà fatto in maniera più capillare perché l'esigenza è veramente forte.